ciao a tutti nuovo album dei day six questo è remember us youth part 2 e questa è la versione fast forward una cosa del genere comunque comunque quella rossa mi hanno dato il pre order che è questo non saprei definire che cosa sia però è carino quindi ci sta ed eccoci qua pronte retro track list mi scuso per la luce ma oggi c'è una luce da schifo fuori quindi non so come regolare quella dentro mi piace un sacco questa scritta che ricorda i rolling stone tutti Grazie a tutti. Oh, un film biondo. Un film biondo. Oh, le faccio vedere dopo, se no perdo la pagina. Oh, un film biondo. Oh, un film biondo. Ok. Non avevo fatto vedere... Ok, lo spy non c'era niente. Adesso vi faccio vedere le varie fotocard. Allora, qui ci sono stickers. Oh, un film biondo. Non ho nulla contro di lui. Però lo trovo sempre. E infatti... Oddio. Bellissimo questa, tra l'altro. Ok. Prego, 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 prego di trovare Wompil. Oh, do one. Allora, tre, due, uno. Sì! No, ragazzi, è bellissima. Con la macchinina. Che cucciolo! Ok. Dimmi che trovo Wompil. Wompil, Wompil, Wompil. Oh, ancora do one. Mi scuso per la pronuncia, ma... Non so come si pronuncia in coreano. E questo è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!